Siamo vicino Preprema questo qua? Quale? Qua vedete nel... Eh qui, questo qua lo premo Sì, questo fa È andato? Sì Guarda quello altro otto, ma si vede le mutande? Eh no Si vedono? Non lo so Non guarda però 25 Vai Sì 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 Ha redetto giallo qua per terra No, quella è ruggine No, quella è ruggine No, quella è ruggine Sì, quella è ruggine Sì, quella è ruggine Che pezzo Ma che da mamma c'è? Ma questo non è uno, dottorrezzo No No Non c'è il rossetto Il triangolo non esiste? Il triangolo no No Lo avevo considerato che … che bello Pasa Sì, non è un esempio.